Saranno i vertici nazionali del Partito Democratico e degli altri partiti di centrosinistra a sbrogliare la matassa per la scelta del candidato sindaco della coalizione per le amministrative del prossimo 26 maggio a Pescara. Nelle ultime ore è arrivato il no dell'avvocato Carmine Ciofani, mentre sembra prendere sempre più quota la candidatura di Marinella Sclocco. Il nome dell'ex assessore regionale alle politiche sociali sembra infatti trovare consensi nella gran parte degli amministratori abruzzesi, soprattutto del Partito Democratico, alcuni dei quali almeno inizialmente avevano rappresentato perplessità su una eventuale discesa in campo della Sclocco. Ora invece è arrivata la schiarita, anche se poi bisognerà attendere l'inizio della prossima settimana per l'eventuale fumata bianca. Nelle prossime ore si capirà anche l'orientamento di alcune civiche vicine alla centrosinistra e in particolare della lista Teodoro per Pescara, che aveva nei giorni scorsi manifestato perplessità prima sulla scelta di Ciofani e poi più in generale sul metodo e sul merito dell'individuazione del candidato giusto. Nelle centrodestra invece Carlo Masci, incoronato dalla coalizione già da qualche giorno, è al lavoro per le prossime amministrative. Dovrebbe rientrare anche la polemica fra Lega e Fratelli d'Italia da una parte e Udc dall'altra per l'ingresso nell'unione di centro di candidati al comune di Pescara che fino a qualche settimana fa avevano fatto parte della maggioranza di centrosinistra. Oggi questa città sembra abbandonata, chiusa in se stessa, ripiegata in se stessa. Bisogna che trovi spunti di grande rilancio per potersi presentare agli occhi nazionali e internazionali come una città che ha grandi prospettive e sicuramente una prospettiva fondamentale è quella della grande Pescara. Giochiamo una partita importantissima. Nei prossimi anni il sindaco di Pescara dovrà occuparsi di questa situazione per far sì che veramente questo territorio così ampio che comprende Pescara, Montesilvano e Spoltore possa diventare un territorio di grande attrazione e quindi parta da una macchina amministrativa oliata. Già al lavoro da giorni anche la candidata del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini che prosegue il suo giro nei quartieri cittadini per incontrare gli elettori. Uno dei primi atti sarà quello di una vera e propria rivoluzione della struttura comunale in cui abbiamo intenzione di tagliare figure dirigenziali diciamo apicali non necessarie per riuscire invece ad avere più strumenti operativi all'interno della macchina comunale in cui ci sia un dirigente che parla direttamente con un assessore senza che si arrivi ai 12 e più dirigenti attuali in una struttura ferraginosa che non funziona bisogna snellire, ottimizzare le procedure, dare maggior chiarezza e efficienza alla macchina ed è quello che vogliamo fare per avere anche a disposizione molti più soldi da dedicare poi alle risorse per i servizi dei cittadini.